Nuovo terremoto in casa Confindustria. Se un anno fa fu il presidente Antonello Montante a finire nell'occhio del ciclone per concorso esterno in associazione mafiosa, adesso è il vicepresidente Ivan Lobello ad essere finito nel mirino degli inquirenti. Il nome di Lobello dal 2015, presidente di Union Camera, è saltato fuori dal filone siciliano dell'inchiesta sul petrolio della procura di potenza, che vede al centro delle indagini Gianluca Gemelli, compagno dell'ex ministro Federica Guidi. Secondo gli inquirenti Lobello farebbe parte di una vera e propria associazione a delinquere, che avrebbe cercato di fare affari soprattutto per assicurarsi il controllo di un pontile nel porto di Augusta. Il gruppo di indagati, che oltre Ivan Lobello e Gianluca Gemelli, comprende anche Nicola Colicchi e Paolo Quinto, scrivono dalla procura di potenza, ha mostrato di essere coinvolte in una serie di attività che seppure connotate come lecite, vengono proseguite come illecite, come abuso d'ufficio attraverso nomine di pubblici amministratori compiacenti e corruttibili. Ma dalle intercettazioni verrebbe a galla anche un altro aspetto, il presunto pressing di Montante in relazione al decreto per l'unificazione delle Camere di Commercio in Sicilia. Camere di Commercio, già travolte dall'inchiesta sulle iscrizioni fantasma, che rischiano di falsare il risultato delle elezioni. E nel frattempo anche i grillini, in un'interrogazione parlamentare, hanno accusato il ministro Guidi di aver consentito a Montante di mettere in sicurezza gli assetti del potere delle nuove Camere di Commercio. Chiederò alla Procura di Potenza di essere sentito quanto prima, ha dichiarato intanto Ivan Lobello, ma Confindustria Sicilia ormai sotto assedio, accerchiata dalle inchieste che fanno dubitare che quella rivoluzione culturale annunciata ormai qualche anno fa dallo stesso Lobello, all'insegna della legalità e della lotta alla mafia sia mai cominciata.